32 rose rosse in memoria delle 32 vittime della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. A deporle davanti alla Casina dei Ricordi Memoriale della Strage, il neoassessore trasporti alle infrastrutture della regione toscana Stefano Baccelli nella sua prima uscita pubblica. Ad accoglierlo Daniela Rombi e Marco Piagentini, rappresentanti dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Il Mondo che Vorrei. L'assessore Baccelli, in quei giorni terribili di 11 anni fa, era presidente della provincia di Lucca ed ha seguito tutta la vicenda a fianco dei familiari delle vittime. Come prima iniziativa pubblica non potevo che essere qua per onorare questo impegno che ho preso prima di tutto con me stesso, di essere a fianco dei familiari delle vittime e per dire a tutti quanti che questo impegno prosegue in un nuovo ruolo, ma sarà assolutamente appassionato e determinato come è stato da quella notte del 29 giugno del 2009. Per i familiari delle vittime la visita di Baccelli è un messaggio importante di solidarietà e la conferma dell'impegno che il neoassessore continuerà a portare avanti. È un segno pratico e tangibile della memoria e della solidarietà che noi abbiamo bisogno, noi come familiari di Viareggio, ma in generale quando succedono queste stragi e mi rifaccio a Sant'Anna dove sono stata l'altra settimana, ecco le cose vanno raccontate, vanno dette e non vanno dimenticate. Viareggio è una città bellissima, c'è il mare, c'è il carnevale, ma c'è anche la strage di Viareggio e questo non va dimenticato.